Buonasera coach, le chiedo innanzitutto quali ritiene possano essere le chiavi per la partita di domenica e poi cos'ha di diverso Verona rispetto alla differente gestione, se ha qualcosa di diverso ovviamente. Grazie. Senza amore di dubbio andiamo ad incontrare una squadra che si è rigenerata, dopo il cambio di allenatore sicuramente c'è stata una svolta molto importante all'interno degli equilibri di squadra, hanno preso molta più consapevolezza, una squadra molto più regolare, prima era una squadra che commetteva parecchi errori, dava delle opportunità agli avversari di avere un po' più facilità nel fare il punto, adesso invece è una squadra che gioca molto meglio, sicuramente ha ritrovato il miglior Diuric, che è un apporto fondamentale per loro all'interno della loro economia di squadra, hanno inserito Randazzo, che gli dà anche lui della qualità, soprattutto in attacco e in battuta, e gli altri giocatori li conosciamo, giocatori molto di talento, quindi sarà una partita molto molto impegnativa, un'ottima gara da affrontare alla vigilia immediata dei play-off e che come tale andrà affrontata come una partita vera. Ma senza ombra di dubbio la nostra battuta deve essere un fondamentale importante, ciò non toglie che io l'ho sempre detto che le squadre non possono scendere in campo ed essere, e a prescindere solamente da un fondamentale come la battuta, se viene bene, se non viene non va bene, noi dobbiamo essere pronti a tutto. Hanno un palleggiatore che è molto talentuoso, è in grado di fare delle giocate molto importanti, è chiaro che io come sempre ho detto e come sempre farò, preferisco guardare sempre la nostra efficacia, la nostra possibilità di gioco, che è quella che poi farà la differenza dal nostro lato, nel nostro rettangolo di campo. Ho notato, coach, nelle ultime partite che stanno entrando oramai definitivamente in palla, gli schiacciatori di palla alta, anche il fatto che De Cecco comunque ci punti molto, insomma, per cercarli di farli proprio entrare nel vero clima della partita, mi sembra un fattore nelle ultime partite. Cioè, questi giocatori stanno definitivamente, insomma, entrando in forma? Beh, innanzitutto, forse qualcuno precedentemente aveva creato un problema che non esisteva, o quantomeno l'aveva molto amplificato, perché magari qualche giocatore non era performante come tutti si aspettavano, diciamo, ma sicuramente per una mia esperienza personale c'è anche da dire che un giocatore è molto difficile che riesca ad essere ai massimi livelli individuali per 12 mesi, perché noi non parliamo solamente di un periodo stagionale per quanto riguarda il club, ma dobbiamo anche sempre tenere presente quello che alcuni di questi giocatori fanno anche nei 4-5 mesi con le proprie nazionali, e questo è un fattore determinante, perché non solamente da un punto di vista strettamente collegato fisico-atletico, ma anche da un punto di vista mentale. Inizialmente avevo detto, e questo lo tengo a precisare, perché non lo dico adesso, ma l'ho detto il primo giorno che ho fatto la prima conferenza stampa, dove per quanto riguarda Zaycev, se voi vi riferite a lui, bisognava avere pazienza, perché lui doveva fare un percorso di cambiamento di ruolo che non è assolutamente facile, ci sono delle componenti tecniche che sono proprio molto molto chiare, che io ritengo che lui non abbia ancora concluso questo suo spostamento, questa sua modifica di gioco, ma non perché lui non si stia applicando o perché lui non sia bravo a raggiungere subito il livello di gioco che precedentemente aveva da opposto, adesso nella qualità dello schiacciatore, ma perché so che ci vuole molto tempo. E quindi è chiaro che più il tempo passa e più lui ha la possibilità di giocare in quel ruolo, sicuramente ne trae molto più beneficio. Poi per quanto riguarda il gioco degli schiacciatori, penso che gli schiacciatori nelle ultime due o tre partite siano andati molto bene, come sono andati bene i centrali, come è andata molto bene la battuta, è chiaro che adesso stiamo entrando, fra poco entreremo nel vivo della stagione, quindi dobbiamo cercare di essere nella miglior prestazione, nella miglior situazione possibile. Detto questo è chiaro che tutto ciò va confermato con le squadre di primissimo livello. Giunti alla penultima partita di regolar season, lei si porta dietro qualche rammarico? No, rammarico nessuno, perché penso che questa squadra qui abbia sempre dato tutto quello che poteva dare anche nei singoli set. E' chiaro che mi auguro, prima di tutto a me stesso, di vedere ancora un margine di miglioramento nel potenziale che ha questa squadra, perché io credo moltissimo che questa squadra non sia ancora arrivata al suo apice per quanto riguarda le performance che può fare. Le chiedo un'altra cosa un po' più a livello generale, cioè rispetto a quando lei è stato chiamato alla guida di questa squadra, rispetto alle idee che si fece quel giorno e il giorno dopo, la realtà di oggi, cioè cosa c'è di diverso rispetto a quelle che erano le sue idee iniziali? In tutto, chiedo non solo squadra ma anche ambiente, tutto. Ma per quanto riguarda il gioco di squadra, penso che determinate cose siano cambiate e i giocatori adesso le stiano anche assorbendo molto meglio che all'inizio, perché come sempre quando c'è un cambiamento bisogna essere molto bravi a dosare ciò che si vuole cambiare per farlo assorbire gradualmente e non mettere subito da 1 a 100 subito 100, bisogna arrivarci gradualmente a quel 100, e di contro questa squadra qui ha, come posso dire, ha la capacità di valutazione nelle proprie possibilità che è molto più alta rispetto a quella che era precedentemente. Quando io sono arrivato ho trovato una squadra, fra virgolette, o avevo visto una squadra, fra virgolette, fragile, in quanto bastava qualche cosa per inclinare la sicurezza e magari perdere dei set o perdere anche delle partite, come è accaduto dopo essere stati avanti 1 a 0 a Trento e 12 a 6 nel secondo set, dopo essere stati avanti 2 a 0 a Macerata o stesso Modena in casa, anche la partita che noi abbiamo perso con Piacenza nei quarti di finale dove eravamo 2 a 0 a 18 a 15, penso che con il lavoro che abbiamo fatto, con la consapevolezza dei nostri mezzi, con i risultati che abbiamo ottenuto, questa squadra sia molto più sicura di se stessa. Le chiedo, innanzitutto, quanto crede nel secondo posto e secondo lei quante opportunità ci sono alla luce dei due incontri che determinano la classifica, quanto è importante in chiave play-off questo secondo posto e quindi un po' anche in relazione a questo, se c'è magari un avversario nei play-off che si adatta meglio o comunque che preferisce, o una che preferisce Vitale. Ma innanzitutto, quanto ci credo al secondo posto, io ho detto ai miei giocatori una cosa, noi dobbiamo finire la regular season senza avere un rimpianto di non aver fatto tutto il possibile per arrivare secondi, quindi io non so se noi arriveremo secondi o no. Quello che io so è che sicuramente domenica giocheremo per i tre punti perché se poi succederà qualche cos'altro nel campo di Monza in particolare saremo pronti a raccogliere un eventuale regalo che ci viene fatto, ma detto questo non voglio assolutamente che questo secondo posto venga vissuto come un'ossessione da parte di nessuno perché Perugia ha delle ambizioni molto importanti che vanno al di là, se in regular season saremo secondi o saremo terzi questo percorso che abbiamo fatto fino ad oggi dove abbiamo vinto se non sbaglio 19 partite su 23 si deve dare la consapevolezza che noi siamo in grado di giocare contro chiunque sia in casa che fuori casa e questo deve essere il nostro credo questo deve essere la nostra consapevolezza poi dopodiché se nei quarti di finale avremo Piacenza o se nei quarti di finale avremo Oravenna o Monza che non lo sappiamo ancora questo poco cambia come sempre ho detto noi avremo il massimo rispetto per qualsiasi avversario che andremo ad affrontare ma non avremo mai paura di giocare contro nessuno tanto meno di avere un'eventuale bella in casa in semifinale piuttosto che averla fuori casa fuori casa ma come ho sempre detto uno step alla volta un turno alla volta una partita alla volta adesso domenica c'è Verona quindi dopodiché domenica sera vedremo chi dovremo affrontare nei quarti di finale Coach, riprendendo il discorso che hai appena fatto quindi lei non ha paura che la sua squadra possa tornare con la mente nei playoff a quanto è successo negli scontri diretti della regular season dove la Sire è certamente cresciuta nel giornale di ritorno ha anche raccolto una vittoria ha raccolto qualche punto in più rispetto al giornale d'andata ma sostanzialmente il saldo è negativo non si può portare dietro questo retaggio? Ma guarda, innanzitutto tengo a precisare una cosa il sentimento della paura deve essere una cosa che fa parte della nostra vita ma non della nostra vita sportiva perché noi non dobbiamo avere paura cioè noi dobbiamo avere le consapevolezze di poter giocare come ci alleniamo quindi questa è una cosa che dobbiamo immediatamente toglierci tutti perché questa squadra non ha paura di giocare contro nessuno i playoff lo sappiamo è un campionato a parte è un campionato ancora più eccitante di quello che è la regular season è un campionato ancora più importante di quello che è la regular season ma ciò non toglie che saranno sempre delle partite di pallavolo dove se noi arriveremo pronti e nelle nostre migliori condizioni possibili saremo una squadra che potrà dire una parola molto importante per l'esito finale di questi playoff detto questo c'è sempre il massimo rispetto per tutte le altre formazioni e per tutte le altre squadre e sarà solamente il verdetto del campo che lo dirà ma ad oggi come io tengo a ribadire io non ho niente da rimproverare a questa squadra e tantomeno non ho niente da recriminare su un qualche cosa che è successo da quando sono arrivato io ad oggi perché chiaramente non c'è stato Le chiedo, nel percorso verso lo scudetto che peso ha secondo lei il fatto di non disputare le fasi successive della Champions League? Senza ombra di dubbio dal punto di vista di dispendio di energie fisiche e mentali penso che è un vantaggio importante è chiaro che bisogna arrivare in quel momento lì perché i playoff saranno non durante i quarti di finale e quindi innanzitutto dovremo guadagnarcelo ulteriormente questo vantaggio perché per avere questo vantaggio qua rispetto alle altre squadre bisogna andare in semifinale Sì coach, in queste ultime ore sempre parlando delle possibili rivali dei playoff Modena ha ufficializzato l'arrivo, anzi il ritorno di Travis quanto crede possa cambiare secondo lei nell'economia dei playoff stessi questo arrivo? Ma guarda questa è la domanda che tu dovresti fare a Tubertini o a coloro che hanno deciso di prendere Travis sinceramente non ci ho pensato perché grazie a Dio non ho tanto tempo da sprecare e da dedicare all'economia delle altre squadre sicuramente è un giocatore molto esperto che presumo che se loro hanno deciso di tesserare e di prendere è perché pensano che portano vantaggio alla loro squadra su questo penso che senza ombra di dubbio è chiaro che noi il percorso che faremo nei playoff un eventuale scontro con Modena può essere solo ed esclusivamente nella finale quindi ci sarà tempo di pensarci e di vederlo per quanto riguarda il discorso della Champions non sono sicurissimo ma penso di sì che lo possano ancora tesserare però anche quello avremo l'opportunità di valutarlo in questo momento sinceramente non saprei neanche in che condizioni è il giocatore perché penso che sia un paio di mesi che non gioca anche la classifica attuale della regular season rispecchia secondo lei quelle che erano le sue aspettative iniziali sui valori delle squadre e quello che è stato il valore espresso dalle stesse squadre in questo campionato? Io penso che Perugia a qualche punto in più ce lo potrebbe avere però penso che in linea di massima rispecchia il valore delle squadre perché come è stato dimostrato dal campo in questo momento qua Civitanova ha qualche cosa in più di tutte le altre anche per il gioco che è riuscito ad esprimere sia nei momenti importanti sia nelle partite importanti sia le Final Four di Coppa Italia dove è riuscita a giocare una pallavolo di altissimo livello è riuscita a recuperare dei giocatori molto importanti non solamente a livello individuale ma dopo nell'economia e nel valore della squadra in assoluto come giri cover per poter giocare con Grabelnikov libero e penso che la classifica tutto sommato rispecchia il valore assoluto delle squadre poi Perugia magari uno, due, tre punti in più li potrebbe avere Grazie 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 Grazie